Buongiorno, stiamo per presentarvi l'MP11 in esclusiva italiana e il nuovo stage piano di fascia alta di Kawai con delle fantastiche new features, in primis la nuova meccanica Grand Fill, ma lascio subito la parola al nostro dimostratore ufficiale Andrea Roda. Buona visione! Ciao a tutti amici di Suoni e Strumenti, siamo qui per presentare anche il nuovissimo Kawai MP11, il nuovo professional stage piano di casa Kawai con dei fantastici suoni di pianoforte fra cui un nuovissimo suono di pianoforte acustico, dei fantastici suoni di pianoforte elettrico Wurlitzer e Rhodes e una serie di altri suoni tra cui pad, strings e diversi altri bass. Fra l'altro alcune caratteristiche al volo, quattro zone per il midi out, recorder e 208 setup per il salvataggio dei suoni e il richiamo rapido. Tre pedali, dati in dotazione, collegio. Vi invito a provarlo in prima persona presso i nostri rivenditori. Grazie! Grazie! Grazie!